Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Il rapper milanese Gali ha dedicato una toccante canzone alla sua madre intitolata Niente Panico, in cui racconta la lotta contro il cancro che Amel, la madre del cantante, sta affrontando per la terza volta. Amel è arrivata in Italia dagli anni Ottanta dalla Tunisia e ha cresciuto Gali da sola, dopo che il padre del rapper è finito in carcere quando lui aveva solo due anni. Nonostante le difficoltà, Amel ha sempre lavorato duramente per garantire al figlio tutto il necessario. Quando Amel è stata diagnosticata con il cancro per la terza volta, Gali ha rischiato di perderla, ma fortunatamente è guarita. Il rapper ha condiviso su Instagram la dura realtà che ha vissuto insieme a sua madre, tra povertà e malattia, ma anche l'amore e la generosità che li hanno sempre contraddistinti. Nonostante le difficoltà, Gali ha trovato nella musica una via di fuga e nel 2016 ha pubblicato il suo primo album, diventando uno dei rapper più amati in Italia. Ora è lui a sostenere e supportare sua madre in questo momento difficile, portandola con sé ai concerti e dedicandole la sua nuova canzone. Niente Panico è un messaggio di speranza e coraggio per tutte le persone che stanno affrontando momenti difficili, sia per problemi di salute che per altre sfide della vita. Gali ha scritto la canzone per sua madre e per tutti coloro che combattono la paura e la sofferenza, dimostrando che la musica può essere una cura per l'anima. La canzone uscirà a mezzanotte e il rapper non vede l'ora di condividere con il pubblico questo brano così importante per la sua vita. La storia di Gali e di sua madre è un esempio di forza e amore, che ha ispirato il rapper a non arrendersi di fronte alle avversità e a continuare a diffondere messaggi.